Tu tipo dove sei? Tu tipo se ci sei batti un colpo! Tu tipo non c'è, non batte il colpo. Cupo Mekes invece nella macchina ha battuto il colpo l'altra volta da me. Tu tipo giunto lì, che è successo? Ragazzi aspetta che vi faccio vedere una cosa bella, una cosa che vi stupirà, una cosa che vi stupirà. Blitz de West Ham, Romano, c'è l'accordo con il Nitz, la Juveris che so fa. Veramente se l'è preso, Fabrizio Romano, 2 miliardi di iscritti, è fatta, è fatta ragazzi, aveva detto che era fatta, ora dice sopparso, veramente, veramente già l'ha preso, 40 milioni di euro per stemme ragazzi. Hanno fatto 850 miliardi di video tra giornalisti e youtube, è fatta Fabrizio Romano. Ci siamo, ci siamo, per un lato. L'altro lato che dice, ah poi la Bazzarini che ci iscrissi, andate a vedere il commento, ho avuto 27 mi piace dal poco, ho scritto nel canale del youtube, youtube, giornalista, anche lui giornalista, ah doppia faccia quella. Bazzarini ha detto, ragazzi state tranquilli, io spotto Megaset, io, state tranquilli, siamo ai dettagli, ma aveva assicurato che stavamo ai dettagli, Bazzarini guarda, niente, fallimento, fallimento, parlate, ma siamo ai dettagli, non sapete niente, non sapete niente, giornalisti, fanno sempre i video, i video, capite, perché stanno in televisione, ovviamente ci aspetta, dicono una notizia giusta, eccendo sbagliata, tutti hanno detto, è fatta, è fatta, ci siamo, siamo ai dettagli, avvistamento a caselle, ma che cazzo ridi, guarda, loro tutti youtube pure, che si è messo pure in mezzo, capito, a chi da, a crescere l'altro pure, mamma mia, guarda, ma io non me la prendo congiuntoli, attenzione, me la prendo tutti quelli che dicono, fake news, capito, comunque ragazzi, il tuo tipo, dice, è saltato, 40 milioni a West Ham, significa che West Ham ha i piccioli, i soldi, comunque, facciate una cosa ragazzi, guarda, facciate una cosa, Davide Sullivan, è un imprenditore dirigente sportivo britannico, attivo in passato nell'ambito della pornografia, se ne se ne ricopre il ruolo di presidente con proprietà di West Ham, in combinanza di David Gold, se ne sto fatto, hai capito chi è, hai capito, che si può fare, ricopre il ruolo di presidente, come attivo in passato nell'ambito della, che se so, che so, amico di Roccosifreddi, tutte e due, capito, amici e parenti so, non male che, che sono, 40 milioni, ho un infimio pornografico che fanno là, poi sono tutti in Inghilterra, capito, poi è apparentato che tu non ero così freddi, capito, ma si malena, ma malena, l'amica di Roccosifreddi vuole 1000 euro, prenota malena, 1000 euro vuole, per fare una fottuta con malena, fai, due minuti, 1000 euro, via, e il cane parla malena, quindi figura dell'imprenditore cattivo della pornografia, hai capito com'è, questi sulli fanno, i soldi ce l'ha, perché tu, il cane, che fai, che il cane, che fai, che fai, che fai, non fanno niente i soldi, la Juventus non c'è niente i soldi, capito, non c'è niente da fare, ragazzi, qua, purtroppo la Juventus, su, come si dice, vuole tutti, prima prendiamo i giocatori, no, e poi praticamente li compriamo il prossimo anno, oppure li paghiamo a tranche, e ragazzi, questo fatto, poi, io non critico a Giuntoli, perché io sto prendendo la sua stessa linea, di Giuntoli, ma si Elka ci ha dato, Elka ci ha dato soltanto 30 milioni per fare il caccio mercato, e non voglio sapere più niente, l'Exor, Rubinetti chiusi, capito, perché la Juventus aveva un passivo di 200 e passa milioni, quindi Giuntoli, per ora, che lo state criticando, sta facendo miracoli contro miracoli, comunque, momentaneamente, ti picchiamo De Gregorio, ti picchiamo Turamo, ti picchiamo Dukas Lewis, ti picchiamo Kabal, aspettaci, vero, ci mancano 9 giorni a squadra incompleta, l'ho capito, tutti l'abbiamo capito, io mi chiuso a chi parla, l'abbiamo capito, vuol dire che si è inceppato qualche cosa, e Giuntoli cosa può fare, ma se chi lo aveva, tre mesi che era promesso sposo, addirittura a tuo tipo non vede a giocare, no, io volevo giocare con la Juventus, con la Juventus, non è se niente con West Ham, una squadra veramente più scarsa da Juventus, come se niente con, perché si è andato con la, la Juventus ci gioffiva capaci 3-4, la ci ripiglia 7-8-9, non vedo quanto cazzo prendono, capito, e io sono più ricchi, la, vuoi vedere com'è, il mercato è questo, dici sì, tu ancora palle, 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 fu, via, West Ham, 40 milioni, comunque tutto questo bordello, perché si va a preghare, stu cazzo cupo me, che si sono i 55 milioni buttati là, capito, è un casino ragazzi, l'ho capito questo, comunque, sfumato il piano, allora, allora, resso cosa, rewind, allora, sfumato il piano B, perché il tuo tipo era il piano B, il piano A ricordiamo c'era Calafiori, ma chi l'ha appena dice che Bologna vuole 50 milioni quindi calafiori no non è possibile poi piano b totibo quindi chi lo costa 50 questo costa 40 no non va bene nemmeno quindi piano c piano c quale sarà chi venderà le windows a posto di totibo toribo come schifo si chiama ma io ripeto essendo sempre scout di giuntoli giuntoli ma scusa ma piccate la delicto di nuovo come il delicto fa schifo ripetendo la delicto ma c'è anche scrignare come scrignare e breme che fai schifo come qui ce ne sono di giocatori voi state come totibo totibo io poi alla fine vabbè stai dicendo la palle facile che torni più dai wenzu perché fino a 5 giorni fa in entusiasma perché il nome mi dava segno di totibo qualcosa tipo di bello toto toto non so mi sembra facessi che si è fottuto non so perché dai giocatori che hanno detto totibo galeno e nicolo e cupo me che secondo nico gonzale che su caccia sempre e però ti voglio già già mentalmente li colloco già dentro la squadra perché si pietra tutti sti giocatori io campionato me lo gioco ecco però se non li prendiamo e no e stiamo capito io ve l'ho detto poi stipulo poi al fine caccia mercato una mia per quello che vedo vedo le squadre si vede con il più forte con il più forte attualmente c'è la gravità l'index è più forte c'è il nuovo campo non lo so qui aspetta spieghiamo cupo makers quindi ragazzi mancano 9 giorni però tutti dicono fallimento aggiunto lì hai fallito perché hai fallito aggiunto lì a me dispiace pure che youtube soprattutto quella che c'era nulla chilo toselle già chilo 200 milioni di iscritti già buttò metà giù stai cammo toselle mamma mia puro tu sangue come era amico tec sei andato e ora praticamente sta facendo un bordello con giuntoli mamma mia ma tu qua chilo era un allegriano pochè super allegra sarà una brava persona toselle ma perché critica giuntoli madonna mia non siete mai contenti qua di juventilità non voglio dare patete di tifo però ragazzi siete depressi nove giorni mancano e ancora non c'è nessuno giuntoli purtroppo purtroppo sta facendo miracoli ragazzi giuntoli ma giuntoli scusa se giuntoli aveva 40 milioni non ce li dava ci hanno dato questi questi devi fare non c'hai i soldi per comprare sub non c'hai cash per comprare il tuo tipo 40 milioni di euro tra virgoletto volevo dire che cubaccellona su tuo tipo non fallivo eh con signor cubaccellona no signor cunizza si ha fatto un buon campionato ma in francia quindi ci vaggono 40 milioni totipo dillo tu conosci a totipo 40 milioni assai su 40 milioni compagno capito però è anche vero se lo cate le vale 40 totipo forse varia qualcosa perché totipo pensa anche se sono diversi a livello di chi dire difensore chi dice non cambista però se lo cate le costa 40 totipo sa costare cioè forse il prezzo è giusto pensa attenzione quindi ok il prezzo è giusto quindi West Ham e lui è andato là e vuol dire che se vuole misurare in premier la sarà anche meno difficile guarda prossimo anno guarderò tante partite è West Ham voglio vedere su totipo in Inghiettira cosa riesce a fare come Calafiori eh con l'assa voglio vedere tutti chi si vengono 50 40 ragazzi noi parliamo parliamo dei tifosi non so che vogliamo i giocatori prendete a quello prendete a quello ma aggiuntoli chi ci può fare ecco ci ha dato 30 milioni e tutti chi si subito che sta cacciando via perché sta mettendo tutti i conti hanno arrivato tutti i conti giusti e più può spendere ripeto a come capisco la somma grandiosa è per questo cupo me che si addirittura l'Atalanta manca 50 milioni ma proprio veramente ridicolo anche loro un giocatore non ci vuole più stare ha mancato vista giù hai capito cupo me che dove sei chi non mancavo vista ci non manco vista ci buttano c'è di feccato via non gioco io capito mamma mia guarda non vuole cupo me che si vuole la Juventus quindi per cazzo tu presidente ascolta libera libera cupo me che sta la Juventus per cazzo hai rotto il cazzo veramente non ce ne può più ma daccelo a noi basta giundole ma è tutto questo gruppo di 55 milioni buttata a questo qua però dobbiamo prendere anche altri giocatori ragazzi stiamo a vedere vediamo quale sarà il piano c ma ripeto il piano c per quanto riguarda ci fosse ripeto scrinia del ict guarda pepe perché si arrederà o perché pepe a 40 anni perché pepe brema a difesa non era buono centrale pepe che era scarso perché si arrederà vice ronaldo dice è stato un grande grande pepe quello è stato un sogno volevo avevo un sogno nel cassetto che almeno pepe come dice come venuto danny alves io volevo pepe la Juventus hai visto è stato un grande uomo combattivo una specie di montero però più forte attenzione e meno falloso quindi grande pepe quindi detto questo vuoi c'è la vede sempre con giuntoli 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 ma cosa può fare giuntoli che lo sai che la che schifo sera cieco vi chiamava cosa può fare non può fare niente non c'hai che esci 40 milioni se veniva tutto tipo era pagabile era con un codice ripreso con diritto di riscatto il posto umano oppure li pagava a rate e così può pagare qui siamo chi no ma la marmotta la marotta league chi fa tutti i parametri giocatori parametro zero sotto un gesto anzi io penso ben o male c'è qualcosa speso chi per ora chi sta venendo faccio mercato è un apoli e windows capito è a roma pure quindi tutti stiamo spendendo tutti qua gli altri che non fanno fatto un cazzo quindi certo quello che ci sono a squadra dice è formato è più forte collaudata siamo d'accordo e io vendo ancora no lo so io pure pure mi dà fastidio che se nove giorni che mancano ancora giocato non ci sono queste cose stanno a fare molto prima e si vede che ha avuto un inceppo giuntale che cose noi non sappiamo sicuramente che le che dicono è fatto non è fatto non sarà uno cazzo tutti sti youtube tutti sti giornalisti che ho elencato parlano è fatta l'arrivo è fatta è fatta non sapete niente e fate voi brutte figure capito barzarini ma ragazzi e dettagli siamo i dettagli perché io lavoro spottometri so tu hai fallito quindi che fai youtube sangu me guarda che è brutto per fare youtube così è fatta è detto guarda io una volta vi ci ho dissi che a fabbio bergomi cioè voi siete tutti fabbio bergomi quello lì è criticato pure quello che è criticato pure nel proprio con i suoi stessi fratelli inderisti la tutti inderisti li pigliano puo culo sempre puo culo sempre puo culo pigliano questo cazzo cioè siete tutti fabbio bergomi basta io pensavo che c'era soltanto un fabbio bergomi ma io ci minchiate minchiate eppure lo seguono più minchiate dice più lo seguono quindi ero convinto che nel reparto nostro diciamo speriamo che nessuno fa miglia caci sono youtube fabbio bergomi pure giornalisti capito chi la creste con una ragazza muovente mamma ragazzi non sapete niente non sapete un cazzo romano fabbiano fabbio romano ha detto a creste ha detto per tu l'ha detto quella demana ha detto una l'ha detto la gazzetta ha detto l'ha detto l'ha detto l'ha detto qua hai capito che torribo fino a finire come stemme c'è promessa sposa la juventus era sicura cento per cento o sfumato arriva quello caccia mercato così 40 milioni via ti palla 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 aspetta che me lo prendo ca chi su ca dei viti sulle vanno capito imbassato nell'ambito della pornografia amico di rocco si freddo vedi quando sono disaffatto tutti 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 comunque tutta la vita è giunto le speriamo vediamo il piano c quale sarà ragazzi la scuola la squadra si deve fare dopo come non staremo con i 15 16 a squadra si farà e nei 9 giorni io quando non esce magari no ora ci sarà guarda a sto punto guarda veramente se il gruppo me io a sto punto gonzale se il gruppo me che sei che si ruo almeno li veda cento per cento che si ruo gli altri non lo so che si galeno questo non lo so ragazzi ora un difensore ce n'è uno l'ha dell'ex 15 milioni di euro l'ha e sa 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 vira sa tu sa donna satana ragazzi si chiama satona satina non so io forse ha preso acquisto a 15 milioni dell'ex difensore non lo conosco ragazzi qualcuno ci vuole ancora la squadra incompleta questo si capito quindi la critica si può criticare forse nella cosa tempistica che magari giunto c'era a fare prima ma ripeto non c'entra niente giunto ne vuol dire che tutti si esuberono nessuno se li caga noi abbiamo le pippe e nessuno li vuole va bene quindi quello lì cerca da squadra ed è difficile ecco capito che l'avevo visto che che male aveva tutti i giocatori ma anche un rabbiò ha cercato scuole il rabbiò chiesa quello vuole sulla roma voleva non è più nessuno l'indo vuole a gratis quindi chi li vuole a questi perché nessuno vuole sbostare i soldi con noi capisci ma chiedi tu ha quel rabbiò scarso chiedi 10 milioni di euro fanno quello tu e la mamma te vanno quindi vedi come avevo ragione io capito giocatori scarsi pippe 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 e comunque qualcuno rintrega sicuramente mille capito o primo chiesa non lo so forse mamma si diceva forse rintrega non lo so vi saluto ragazzi vi auguro una buona giornata buona serata io mi sto scassando una minchia su caccia non vedo le viste partita così commentiamo le partite capito tanto vince o perde almeno come le partite il calciomercato mi ha scassa proprio mi porta ansia perché poi comincia a fare tutti questi youtube tutti questi giornalisti che non capiscono a oltre un cazzo di calcio non capiscono tutti proprio proprio mercandari allo stato vuoto il panno panno ma è fatto e fatto e fatto e fa ma come non sapete niente voi siete venditore di minchiate fallimento avete fallito tutti quando saluto